Finalmente, dopo quattro anni, vendiamo la marotta. Per cui credo molto lungo, però va benissimo, perché la marotta dice più è vecchio è meglio perdere la marotta. Ed è vero, se avete una bottiglia a casa di marotta, è importante tenerla sempre orizzontale, la bottiglia, inserete una cantina di meglio ancora, nessuna luce del sole, temperatura costante, una bottiglia di marotta dura per 15-20 anni senza problema. Grazie.